ciao a tutti ecco un nuovo tutorial sempre sulla torcia highlight della maspora sub ho pensato di aggiungere questo copri parabola in gomma della omer che calza abbastanza bene ha una scanalatura interna che serve probabilmente sui modelli omer per bloccarla però va molto aderente per cui non si sposterà ho deciso di aggiungere un piccolo dischetto di plastica tagliato a misura da inserire nella scanalatura che c'è qua in modo che lo trattenga questo serve a proteggere il vetro della parabola quando si guarda in tana e per non rigarlo per non romperlo come potete vedere questo dischetto è già stato usato e ha già dei segni abbastanza evidenti per cui penso che il suo lavoro lo stia facendo quando sarà rovinato basterà sostituire il questo dischetto con un altro allora inserisco il copri parabola in gomma che tra l'altro rende anche diciamo più silenzioso il contatto della torcia con la con la roccia e lo premo e come vedete sta perfettamente si riempirà un po di acqua ma non da nessun problema né alla visione nella torcia perché tanto è subacquea spero vi sia piaciuto anche questo tutorial alla prossima